La dimostrazione invece del golf è veramente alla portata di tutti, cercheremo di aiutare la federazione a lasciare un'eredità che consenta di realizzare tanti campi pubblici, campi pratiche nelle città, perché quello probabilmente è la chiave di volte, cioè di non avvicinare le persone al golf, avvicinare il golf alle persone. Se posso le rifaccio la domanda di prima ministra, il contesto è cambiato. Facciamo la tematica, allora, giriamo il golf e poi facciamo l'ultimo. Ok, anche per candidata, troppo multidisciplinare. Certamente sì, perché il golf è internazionale, perché questa competizione è una competizione che si è indicati particolari, però lo vanno interiormente comunicati. L'Europa è una sola squadra, gli Stati Uniti comunque è un soggetto dello scampio internazionale della regione politica al centro, in una fase dedicata come questa e mi auguro che sia noi solo un elemento di grande promozione con quello che sarà l'Università degli Esteri del Rosciano, ma certamente è un punto di vista della fascia. Possiamo dire che il golf è uno sport inclusivo, è di più che per il museo? Assolutamente sì ed è uno sport sostenibile nella misura in cui vive immerso nella natura, ha superato almeno le sue problematiche legate anche alle qualità sono fatte dalle associazioni ambientaliste e quindi c'è un impegno che noi abbiamo certificato nel tempo, anche nella nostra esperienza del progetto sportivo, del progetto che ci siamo a casa impegnati nel bordo, nel verde è un presidio della biodiversità, è un utilizzo dell'ambiente in modo sano, quindi sono convinto che sarà un contributo anche allo sviluppo della cultura ambientale. Passando al calcio a questo punto, arriva nel momento, l'avendamento di cui parlava anche il collega, per il privare di un'attività, se è d'accordo con noi, diciamo in qualche modo retroattivo. D'accordo, non mi sono espresso perché noi non ci fossero le condizioni, ho il mio parere e c'è la delicatezza di un tema che non voglio disturbare dal punto di vista della comunicazione associazione del rinnovo dei diritti, è un tema aggregato che riguarda non soltanto il calcio della Serie A, ma come sapete tutti, il sistema nazistico, della mutualità, ma anche il sistema sportivo, grazie anche alla riforma giocustica, al quale contribuisce al calcio, nel lavoro significativo, a sostanzialmente pubblica, a tutte le arricchialità sportive, come il 32% della fiscalità dell'anno precedente, quindi tutto quello che aiuta e comunque a migliorare i fatturati, da parte mia sarà sempre sostenuto, promosso. Grazie a tutti.